Un bilancio confortante, il senso di responsabilità dei talentini ha trionfato. Nei due giorni di Pasqua e Pasquetta la Polizia Locale non ha dovuto compiere operazioni di particolare rilievo, pochi gli assembramenti in strada, tantissime le persone che nel pieno rispetto della normativa anti-Covid si sono convertite allo sport pur di uscire di casa, ma la zona rossa è ancora in vigore. L'assessore alla Polizia Locale, Gianni Cataldino, raccomanda attenzione. L'insofferenza è alta verso tutte le regole, verso il DPCM e ci aspettavamo una trasgressione maggiore. Di fatto i Tarantini sì sono stati per le strade, ma insomma il DPCM anche persino in zona rossa permette di uscire con una motivazione. Ho visto tanti atleti e tanti ciclisti, le forze dell'ordine sono state ben dispiegate sul territorio, devo ringraziare tutti. Hanno controllato che si evitassero assembramenti, che si girasse senza mascherina. Poi è chiaro che ci sono degli episodi su cui bisogna intervenire, si deve intervenire, ma di fatto anche la volontà è quella di informare più che sanzionare. Permane una condizione di difficoltà dal punto di vista dell'andamento del contagio da Covid e quindi permangono le regole fondamentali che, ripeto sempre, la mascherina va portata sempre, bisogna evitare gli assembramenti e igienizzarsi il più possibile.